una cosa interessante che dicevi c'è quelli in fase acuta quelli con problematiche per cui il farmaco diventerà un supporto cronico poi dipende come il primo tipo non mi ricordo se gli ha dato una classificazione un nome particolare nel nel libro comunque quelli che arrivano già abbiamo diviso il libro in quanti in tipologie quando il farmaco è il presidio principale quando può essere di aiuto quando invece assolutamente di limite alla terapia in modo tale che poi le persone possono ritrovare il loro tipo di problema disturbo classificato ma direi che la grande area della maggior parte delle richieste che arrivano lo psicoterapeuta quindi diciamo disturbi ansiosi ossessivi disturbi del comportamento alimentare e anche depressioni lieve o medie appartengono tutti alla categoria in cui il farmaco o può essere utile per un periodo o è addirittura dannoso perché crea quello che abbiamo chiamato l'effetto stampello sì ci sono due cose infatti ecco che ti volevo chiedere una mi ricorrego subito a questa arriva la persona che sta già prendendo i farmaci tu dicevi giustamente arriviamo fino alla conclusione della parte di più di psicoterapia e iniziamo lo scalaggio c'è il rischio che la persona come dire che la psicoterapia si blocchi a un certo punto perché c'è una stampella e la persona non va oltre perché questa stampella le impedisce di fare questo allora sai lo scalaggio dei farmaci è un fenomeno delicato perché non appartiene solo alla dinamica alla dimensione della biochimica per cui certi farmaci si potrebbero scalare anche con una relativa rapidità ma la resistenza appartiene alla dinamica emozionale l'idea come stai dicendo tu che sì ora sto bene ma sto ancora prendendo il farmaco cosa capiterà quando lo tolgo quindi la cosa carina è che più delle volte a fronte di uno psichiatra che magari suggerisce di scalare i farmaci con un ritmo che è quello adeguato da un punto di vista biochimico con il paziente spaventato noi concordiamo di scalarlo in tempi molto più lunghi proprio una goccia ogni dieci giorni cioè a volte lo scalare diventa più un rituale per il paziente di accompagnamento a scoprire che può mantenere risultati anche senza la sostanza perché in quel caso se no corriamo il rischio di incorrere nel quello che è stato chiamato l'effetto nocevo cioè il fatto che il paziente tema una ricaduta perché toglie il farmaco può veramente produrgli una ricaduta un ritorno da ansa un sentirsi depresso quindi a volte paradossalmente lo psicoterapeuta è molto più cauto nello far scalare e richiede allo psichiatra di andare più lentamente o il paziente stesso dice ma quasi qua ti vado più lentamente proprio perché vuole gestire la resistenza sul piano più emotivo psicologico come come agisci in queste situazioni come rassicuri la persona come l'accompagni ma allora senti innanzitutto c'è un primo elemento fondamentale che la persona è arrivata da te avendo già quella terapia eppure stando male ok quindi tu è una persona che arriva e ha comunque i suoi attacchi di panico non esce non guida o ha un disturbo ossessivo compulsivo rituali un ipocondriaco fissazioni cioè quindi la persona arriva e con quella terapia farmacologica ha comunque un problema di solito invalidante perché quelli che non hanno niente a terapia farmacologica difficilmente chiedono un aiuto psicoterapeutico ok certo certo quindi nel momento in cui invece mantenendo invariato quello tu li guidi in un processo di risoluzione attraverso la parola la psicoterapia per la parola poi tu sai bene anche le azioni compiti a casa sono loro quelli che non possono non avere evidente che la differenza non l'ha fatto al farmaco ma l'ha fatto quello che loro sono riusciti a fare sottolinea questa cosa si sottolinea molto in quella che è la nostra terza fase della terapia tutto quello che le persone hanno fatto di differente che ha permesso loro di risolvere il problema quindi loro arrivano che hanno già scoperto che l'ansia l'hanno superata facendo certi compiti imparando a fare certe cose che fa fatto la differenza fra vero non aver attacco quindi se si fa bene questa parte di lavoro in cui si porta la persona ad avere anche consapevolezza su come è cambiata le resistenze sono molto più ridotte di quanto uno possa credere perché se prima avevo gli stessi farmaci e stavo malissimo e ora dopo dieci sedute sto benissimo forse allora quei farmaci non servivano quindi se uno fa bene questo lavoro in cui le persone comprendono cosa hanno fatto di diverso la resistenza è veramente ridotta una consapevolezza sulle risorse che hanno espresso e su come loro hanno appreso a gestire il problema fosse un attacco di panico un rituale compulsivo mangiare vomitare sono loro che hanno fatto scoperte tramite la psicoterapia su che cosa li incastrava nel problema e su come l'hanno risolto se uno fa bene questo le resistenze sono ridotte al minimo quando ancora resistono come ti dicevo si gioca molto sull'allungamento dei tempi che vuol dire che come terapeuta io continuerò a supervisionare in questo caso lo chiamo supervisionare perché il problema è risolto nei controlli il paziente ad esempio vedendolo dopo due mesi poi dopo tre mesi ma mantenendo un contatto con lui fino a quando non ha tolto completamente farmaci quindi lo psicoterapeuta rimane il riferimento di accompagnamento proprio perché se no la persona rischia di sentirsi abbandonata nel momento in cui ancora deve scoprire fino in fondo che quelle sostanze non servono